Sono incrinato, ho una crepa per tutta la vita, mi chiedete come sei, perché fai così? Avete immaginato qualcosa, lo vedo, non sono un blocco integro senza una falla, ma aspettate, bisogna che dica prima, è inutile, ogni volta non riesco a riprendermi, quando torno intendo, quando sono di nuovo a casa o qui, nel mio, nel nostro mondo. E' come se aprendo una qualsiasi porta continuassi a vedere le apparizioni che ho visto lì, un uomo fatto a pezzi, una casa esplosa con dentro la gente, una bimba di pochi mesi estratta dalle rovine bianca di calce e polvere, anche il sangue è diventato una pasta bianca. Sì, la mia prima immagine siriana. Eliminare la guerra, eliminare il male, non si può. I miei sono stati in fondo soltanto brevi momenti, mi viene la vertigine a pensare cosa fu per chi nell'inferno ha vissuto anni. Vorrei che mi concedessero loro, gli altri, un poco più di tempo per mettere ordine in quello scaffale della mia vita che è ogni viaggio. La guerra è un buco nero in cui tutto cade, da cui tutto esce, a cui tutto torna. La guerra è una prova integrale, sommerge la vita quotidiana, confonde il sacro e il profano. Non solo di coloro che vivono in quei luoghi, ma anche di noi abitanti dell'Occidente, che fisicamente ne siamo lontani e crediamo di essere al riparo. E' un luogo dove l'uomo è pericolosamente confrontato a se stesso. Vorrei esprimerlo in termini più chiari, cioè anche se uno è bambino, ti accorgi subito che lì non si bara. Insomma, è che devi porti il problema fondamentale della vita, della morte. Questa è la guerra, insomma, la vita o la morte. Tutto il resto diventa scandalosamente secondario. Allora è un mistero, che se uno soprattutto è molto piccolo, dice perché? La morte non l'ha ancora scoperta. Se vuole è una cosa ancora un po' misteriosa. Poi magari, che so, inizia a vedere intorno a sé i nonni che muoiono. E allora si pone le domande. Ma prima? Boh, la morte non esiste. Sì, vedi la lucertola che muore, ma la morte non è così evidente. E nella guerra diventa numericamente evidente. Vivere non è così normale, come può sembrare invece a uno che è bambino. Anzi, è un'eccezione. In certi momenti, in certi luoghi. Ecco, questo è qualcosa che ti attanaglia. Che si è arrivato a una domanda fondamentale, a qualcosa che non puoi eludere. E poi, l'aspetto più permanente della guerra è la distruzione. Cioè, la guerra non finisce appena è finito di sparare. Continua. Nel disastro. Nell'alientamento di tutto ciò che esisteva prima. E quindi poi si prolunga perché non c'è più niente. Non ci sono più i ponti, non ci sono più le strade, non ci sono più le comunicazioni, non ci sono più i mercati. Non c'è più niente. Ecco, la guerra, senza la galleria d'immagini a cui contribuiamo con articoli e libri, sarebbe nuda, ovvero impensabile. Perché noi, la guerra, vogliamo sempre vederla vestita, abbigliata. Quando ci troviamo di fronte a un morto, la guerra è nuda, bruscamente. L'immagine della vittima la sveste sempre di qualche cosa, perché esce dalla sua regione mitologica per prendere l'aspetto orribile dell'istante in cui muore uno di noi a causa sua, ovvero a causa nostra. Parti intere del mondo si svuotano di uomini, di rumori, di vita. Percorro squarci esterminati di Africa, di Medio Oriente, e scorgo soltanto deserti e sterpaglie. La sabbia che ricopre la strada e ne cancella il ricordo. La foresta che vince la battaglia con le pieghe dei campi, perché coltivare ancora una terra che non dà nulla, sfinita dalle siccità, dalla mancanza di concimi, dall'eseguità delle sementi, e inghiotte lentamente edifici e capanne. Il villaggio è vuoto, tutti sono partiti, i pochi rimasti, i vecchi, qualche donna, chi ha avuto paura, si raggruppano, si rannicchiano in rari luoghi, non li senti più gridare. Unici rumori? Quelli della guerra. Camion carichi di soldati bambini o gendarmi, giadisti sui pick-up con le loro lugubri bandiere. Quando giro per le strade silenziose, dentro nelle case, le cui porte aperte non respingono, ne invitano alcuno, non sono solo. Nelle stanze l'aria è ancora piena del calore della gente che vi ha abitato. Anche gli oggetti non si sono ancora staccati dai loro possessori, le maniglie serbano l'impronta delle mani, gli sguardi delle donne aderiscono ancora alle stoviglie, gli armadi custodiscono abiti e masserizie. L'odore delle ore volgari e di quelle solenni. Le cose si staccano dalle persone più difficilmente che le persone da loro. E quando una persona è già morta da un pezzo, le rimangono a lungo aggrappate. Qui. Soltanto gli esseri umani sono usciti dalle case, la guerra li ha scacciati, hanno potuto prendere con loro soltanto quello che erano in grado di portare, abbraccia e ogni camera narra lo strazio della scelta. Una balla di biancheria lasciata lì, vestiti tolti dall'armadio, poi ributtati dentro. Intanto altri luoghi del mondo febbrilmente si riempiono. File di uomini sbarcano da navi che sono già arrelitti o cercano di sfondare muri improvvisati. Camminano, scalano montagne, hanno mappe che sono messaggi di parenti o amici che già vivono nel paradiso. È la grande emigrazione. Forse cambierà il mondo. Ma quando ce ne accorgeremo sarà già in noi. Sarà già in noi il popolo nuovo. Quali sarebbero le fotografie che potrei scegliere per sintetizzare la mia vita di giornalista? Innumerevoli foto di morti, quelle con la tetratinta inchiostro dei vecchi cimiteri. Uomini, donne e bambini anonimi, l'anonimato delle vittime, di cui ho attraversato per un attimo la vita fragile, di cui ho raccontato la sofferenza, spesso direttamente la morte, sottoposti a pene che non sono punizioni, a fatiche orribili oscure che alla fine soltanto si rivelano piene di significato. Non posso esporle. Non c'era in quel momento il fotografo verso cui guardare sorridende. Poi sono troppi, ci vorrebbero pareti infinite. Eppure posso evocarli in un lampo. Mi vengono davanti in una lunga schiera e mi interrogano muti. Allora, come ora? Perché? Perché morire? Perché soffrire? Quello mi interessa. Non l'umano, l'umanità, che è una categoria. L'uomo in carne e ossa mi interessa. A me non interessa tanto il percorso delle idee, delle ideologie. Mi interessano gli uomini. Allora l'Africa è il luogo in cui il rapporto tra gli uomini e la storia è più brutale. Senza paracadute, senza possibilità di esimersi dalla domanda fondamentale, le domande fondamentali. Riusciremo a sopravvivere alla fame? Al dolore, alla guerra, al tribalismo e a tutte queste cose terribili. E allora è una scelta quasi obbligatoria. Sinceramente non mi interessa molto il percorso di una parte del mondo in cui i problemi sono problemi di tipo economico, finanziario, del settore politico, costituzionale. Interessa dove gli uomini sono confrontati all'eterno, alla sopravvivenza. a Dio. L'uomo. L'uomo della dichiarazione universale dei diritti umani non è una figura giuridica astratta. L'uomo ha dei diritti a carne e ossa e lo troviamo quotidianamente incarnato nel migrante e nel profugo. è in mezzo a noi nel nostro opulento occidente ma non lo vediamo perché viene trasformato in fantasma in estraneo, inescluso da un morbo più buio della violenza. L'ipocrisia. L'uomo l'uomo in carne e ossa che nasce, soffre e muore che mangia, beve, pensa e ama e odia l'uomo che si vede che si ascolta il fratello di ognuno di noi. E poi c'è l'altro l'uomo delle ideologie dei fanatismi delle interessate divagazioni politiche delle chiacchiere degli stolti che non ha luogo o tempo che non ha gioia né sofferenza vera ovvero il non-uomo. Il nostro è il primo quello in carne ed ossa l'uomo dei diritti. Il tempo di un evento come un bombardamento è un tempo accelerato alla milionesima potenza. In una strada di città o in una campagna dove cadono bombe e uomini si scontrano l'uno contro l'altro mitragliatrici che latrano urla fumo è come essere in un acceleratore di particelle. Ogni cosa ogni sensazione che arriva arriva a una velocità impressionante che è quella di una sequenza cinematografica portata alla milionesima potenza. È il tempo che è importante da rendere. Allora lì non posso renderlo attraverso la scansione della prosa normale. Se io faccio dei capoversi dei concetti che si susseguono come nella scrittura regolare dal tema in classe al romanzo quel tempo io non riesco a darglielo perché il lettore si ferma. una volta che legge arriva al punto al punto e virgola si ferma riprende fiato e va avanti. Ma quello non succede perché è una situazione e allora io devo usare ad esempio il metodo della scrittura continua. La posizione della punteggiatura dove le parole si connettono una con l'altra non hanno delle sospensioni io devo leggere o tentare di leggere dalla prima riga all'ultima in apnea e la successione delle cose si manifesta attraverso anche la tua scrittura. Per entrare in questa connessione obbligatoria tra il vedere scrivere e la realtà che è quella di persone che soffrono muoiono e uccidono è quello che io sintetizzo nell'immagine molto semplice che io dico sempre buttarsi nel pozzo è come buttarsi in un pozzo cercare di arrivare più a fondo possibile nuotando andando giù andando giù andando giù e poi a un certo punto c'è un momento in cui tu senti che devi risalire perché altrimenti muori qualche volta non ci riesci un sacco di giornalisti non ci riescono restano nel fondo allora io risalgo e mi porto dietro dopo avere con le mani con lo sguardo nell'acqua torbida cercato di toccare tutto ciò che mi nuotava intorno in quel fondo del pozzo che sono degli oggetti alcuni ripugnanti altri affascinanti nella loro indeterminatezza non li vedo non li colgo sembrano belli o brutti ma perché deformati dalla luce dal filtro dell'acqua io mi porto dietro addosso addosso tutto ciò che posso in termini di alghe di rifiuti di acqua pura ed è quello il materiale su cui io devo lavorare per scrivere per raccontare l'unica cosa che non posso fare che non devo fare è stare sul bordo del pozzo e guardare dentro perché vedrò una superficie d'acqua che riflette la mia faccia o quello che c'è intorno ma non vedo quello che c'è sotto allora in quell'immergermi nell'essere insieme alle persone che soffrono muoiono uccidono costruiscono la storia o la smantellano è la giustificazione etica dello scrivere solo lì non è nient'altro io non sono qualcuno che guarda il formicaio dall'alto io sono formica e nell'essere formica trovo la giustificazione morale nei confronti del mio referente che non è il lettore non è il direttore non è nulla di tutto questo è il soggetto del mio racconto la persona che è lì è a lui a questo soggetto che devo giustificare cosa faccio e come lo faccio perché lui è l'unico che ha il diritto di chiedermi perché mi hai scritto così perché mi hai fatto vivere così e non in un altro modo tu sei lì gli altri muoiono e tu guardi è il dramma del giornalista o del fotografo che ha coscienza quello l'ho acquisito ben prima di tutti questi fatti non è un problema biografico è un problema complessivo di fraternità umana che è una cosa ben più grande 152 giorni in ostaggio in Siria dopo quell'esperienza il ritorno è difficile avvicinarsi agli altri se subito capti dov'è il veleno dov'è il pulso siccome ce n'è tanto riesco a individuare la menzogna nelle parole degli altri perché l'ho verificata nelle persone che mi sono state attorno per cinque mesi mentivano sempre erano bugiarde sempre siccome il mondo soprattutto il nostro si fonda sulla menzogna sul falso nessuno di noi è come si presenta pubblicamente è un'altra cosa quella cosa che terrà in casa nel bugigattolo dove vive per tre persone è totalmente inventato bugiardo recita lo sento subito come faccio a stare in mezzo alla gente quando è così per questo sto rintanato non voglio uscire ho l'impressione che la mia vita stia per essere intrappolata in questa dimensione di sopravvissuto di ex prigioniero e che mai più chi mi sta intorno farà riferimento a me per amarmi detestarmi a ciò che io sono al di fuori di quella storia un filosofante della sopravvivenza insopportabile per la seconda volta superstite di se stesso anche gli articoli che il giornale mi chiede sono sempre collegati a quello che mi è accaduto nient'altro tutto ciò di cui ho scritto per anni i luoghi gli uomini che ho incontrato sono stati annullati da quell'unico momento lungo cinque mesi essere eternamente ostaggio come ruolo esperto testimone credo che sia già accaduto ad altri a chi è stato prigioniero o nei lager nazisti o comunisti la prigionia continua nella trappola ambigua ma infrangibile di una vita a un'unica dimensione e solo dallo stemperarsi della memoria possono sperare di sottrarsi a questo secondo sequestro prigionia è un'esperienza che svela la profondità dei tuoi difetti sei nudo con te stesso non è una bella esperienza perché quella che credevi la tua parte migliore famiglia amore principi etici non conta niente sei pronto a buttarli come Zavor e te ne vergogni più della violenza subita è questa la colpa dei miei rapitori nessuno più mi manda in nessun luogo oppure non si può più andare in nessun luogo né pericoloso né normale e il problema si è risolto da solo quello che sta intorno a te delle volte soffia via come se fosse polvere tutte le tue elucubrazioni ah però se vado devo no non ci vai più abbiamo deciso noi per te la vita gli accadimenti il tempo che passa la vecchiaia i giornali che cambiano hanno deciso per me che devo fare l'unica cosa che non farei è di andarci soltanto per me stesso questo non lo farò mai perché sarebbe narcisismo sarebbe inutile ci vado se qualcuno mi dice vai e racconta se no non ci vado mi interessano gli uomini e i luoghi in cui la loro vita la loro esistenza viene sottoposta a un processo di combustione combustione esposti al calore di un alto forno che è quello della fede dell'odio della passione politica questo è quindi lo strumento che ho deve essere qualche cosa che lascia una scottatura come se io appoggiassi la mano su un forno e me la bruciassi io devo trovare le parole che corrispondono a questa combustione non è semplice è molto difficile è molto difficile descrivere la guerra non è un problema d'annunziano è un problema di trovare qualcosa che è inesprimibile l'afflizione umana questo è la commozione è un mio strumento di lavoro è stato un mio strumento di lavoro fino a un certo punto fino a quando ho capito che non funzionava e allora l'ho abbandonato è attraverso questo che guardo la realtà mica attraverso delle griglie geopolitiche di analisi io guardo attraverso i sentimenti che le persone che vivono quelle situazioni suscitano in me via via che avanziamo dopo la fortezza araba che un tempo era un museo e ora è il comando ribelle verso la prima linea tutto diventa più deserto stranamente silenzioso malgrado i continui rombi delle esplosioni è come morto gli alberi la terra il cielo i sassi le case non hanno più alcun colore tutto è un grigiore una dividezza funeria quasi che la natura avesse perso ogni suo chiaro attributo si fosse irrigidita in una specie di spettralità sepolcrale e astratta ma Arat è come Aleppo come cento città e villaggi siriani in rovina le cupole e i tetti rotti come gusci la sommità di muri squassati cede sotto i sussulti delle bombe inesorabilmente Marat sta tornando alla terra presto non resterà che un torso di terra collinoso dove crescerà il nulla o paura questo è un posto dove i minuti si dilatano in anni dove ci sentiamo sfiorare dal freddo del nostro nulla i ragazzi adesso tirano a raffiche lunghe furiose quasi senza prendere la mira la casa dove sono asserragliati i soldati muore sotto i loro colpi sussulta cumuli di polvere escono dalle pareti e la terra ribolla intorno sollevando zolle ci sono paesaggi interiori percepiti solo da loro solo loro sanno quali eventi drammatici alcuni terribili altri sublimi si sono verificati in questo groviglio di cemento fatto a pezzi che chiamano città questo paesaggio interiore della guerra che appartiene solo a loro continuerà a esistere fino a quando ci saranno i ribelli a ricordare e a raccontare cosa accade e alla fine quelle storie diventeranno miti questa è la Siria che noi abbiamo voluto ignorandola un luogo che esiste in un istante di violenza che va al di là di ogni immaginazione che esiste negli ululati delle donne e dei bimbi impazziti dal terrore nelle invocazioni dei combattenti nelle esecuzioni spietate negli eroismi e negli errori fatali e il suo volto è a volte bellissimo e a volte terribile ma il paesaggio interiore appartiene solo a loro noi che siamo stati lì l'abbiamo guardato non vissuto la guerra è avara non fa sedere tutti al suo banchetto tragico sceglie divide molti possono guardare solo fuori dall'uscio spiare dalle finestre adesso ho lasciato l'ultimo villaggio case vuote silenziose come fossero disabitate eppure ci sono auto e segni di vita è come se gli uomini della montagna si nascondessero in attesa dell'arrivo del tour di oggi quando la montagna intera sarà folla rumore auto e grida i pini fanno ancora un'ombra riposata e densa nel bosco umido e sonoro pare un'immensa grotta la selva di abeti attorno alla strada che sale ora con pendenze più forti e tiepida cordiale e profonda come una donna non mi piace alzarmi sui pedali vorrei sentire sempre il corpo e la bici in coppia sgominar l'aria sbriciolarla con il movimento delle gambe come se fossero una cosa sola il paesaggio diventa torvo la pietraia di grigio calcare pare di ossami qualche nube si appesantisce sulle cime non so perché la ritorica degli aedi sportivi la chiama paesaggio lunare la luna è una terra morta qui la montagna è ben viva una vita minerale ma possente quasi urla la sua esistenza fatta di ghiaie gialle di guglie che sono altaria misteriose intangibili divinità della montagna la strada è obliqua come è tracciata da uno spillo la rupe liscia dai due lati sale e scende implacabile senza appiglio qui fu la corsa capolavoro di Bartali nel 38 5 italiani nei primi 6 posti le squadre sono nazionali si va al tour come a una guerra la tattica l'ha studiata a Girardengo l'omino di Novi un generale vero con i gradi e le greche sulle mani che guida la spedizione italiana sono i tempi Bartali all'arrivo alza il braccio nel saluto romano ancora due anni e su queste montagne scaveranno trincee si combatteranno battaglie vere ecco sono in cima mantenere il controllo del respiro trovare il giusto rapporto sul colle non c'è nulla una stele che ricorda i genieri militari che costruirono la strada qualche transenna per il provvisorio traguardo di oggi che poi sparirà una baracca in legno che vende l'umile mercanzia dei souvenir ciclistici nelle gazzette sportive la montagna è domata vinta la retorica e l'isoar che se vuole se tu hai l'umiltà ti accetta ti lascia venire a sé il silenzio è la più straordinaria testimonianza di viaggio che uno può portare con sé allora quando si torna Itaca non è mai stata la stessa perché il tempo si è insinuato dentro e ti ha cambiato e li ha cambiati e gli uomini e le cose non sono più gli stessi questo è il viaggiare epilogo il non ritorno questo è il viaggiare e il mio sogno è il non ritorno e mi accadrà perché nella legge del viaggiare la possibilità emblematica vera scelta definitiva tremenda di non tornare indietro il viaggio non finisce mai solo i viaggiatori finiscono e anche loro possono prolungarsi in memoria in ricordo in narrazione quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia e ha detto non c'è altro da vedere sapeva che non era vero la fine di un viaggio è solo l'inizio di un altro grazie grazie allora prima di passare la parola ecco vieni vieni ecco qui Domenico Quirico e Tiziana Bonomo prima di passare la parola a loro per parlare di questo bellissimo libro un libro che che Tiziana ha fortemente voluto e inseguito per anni poi penso che lo racconterà lei sia per la grande ammirazione che ha e che penso tutti noi abbiamo per per Domenico Quirico ma anche come per rendere giustizia di qualcosa che le fa dispiacere non so anche una piccola rabbia forse il fatto cioè che che Quirico sia una persona conosciuta per il suo mestiere di giornalista poi abbiamo toccato anche il fatto la paura di essere inchiodati soltanto a un evento però non è conosciuto tutta la complessità della della sua figura della sua persona di quello che fa di quello che sente di come è come sta al mondo e quindi voleva appunto un po' come dei documentari che già ci sono stati voleva in questo libro ridare quella complessità restituire quella complessità che lei ha conosciuto prima attraverso i libri poi conoscendo anche personalmente Domenico e questa sua ammirazione ad esempio è l'ammirazione per Domenico come scrittore la qualità della scrittura che lei che Tiziana avvicina alle fotografie il libro è pieno di fotografie che Tiziana è una fotografa si occupa di fotografia proprio per questa capacità che ha Quirico di raccontare diciamo per immagini ma non è per immagini soltanto cioè per immagini agenti per immagini che incidono che scolpiscono nella carne del lettore qualcosa che somiglia a quella scottatura che lui stesso ha preso e che lui non si dovrebbe dire questa parola che lui tenta di contagiare diciamo ai suoi lettori questa ed è appunto una qualità che di scrittura eccezionale perché è carica di tutto quello che ha visto cioè in ogni frase questo è quello che penso leggendo cioè non c'è frase che non ricapitoli sempre tutto quello che Domenico Quirico ha visto o ha sentito in questo senso è una scrittura molto piena molto densa anche nei momenti di leggerezza di tocco di ritmo quando si solleva come in questa arrampicata in bicicletta c'è sempre un po' tutto quello che Domenico Quirico porta con sé quasi che uno potrebbe pensare appunto come uno vede è un fantasma tra di noi che viviamo la nostra vita normale ma è il fantasma cioè il contrario il fantasma di chi vive veramente cioè della vita vera non di uno che appunto è sopravvissuto oppure non è più tra di noi proprio il contrario siamo noi sonnacchiosi pigri addormentati fuori dalla vita che è la vita appunto quando è cruciale quando è sempre diciamo in relazione immediata con la morte e quindi il libro è diviso in capitoli sono dei capitoli e ognuno appunto si parla di altre cose non soltanto di Domenico come appunto reporter giornalista scrittore ma anche proprio lo stile si vede come come lavora la sua materia anche dal punto di vista stilistico e si vede che lo stile comunque è la sua natura non è qualcosa appunto di dannunziano nel senso cioè non è niente di esteriore ma è sempre la materia che suggerisce le modalità della scrittura ogni capitolo quindi ha una introduzione e leggo la prima introduzione e poi lascio la parola a Tiziana e a Domenico Quirico il capitolo è la scrittura la lettura queste quindi sono parole di Tiziana che strana sensazione di voragine sentirsi rapire da una lucida verità che disorienta e ammalia la verità Quirico l'ha vissuta come testimone di esperienze che aprono le porte su un mondo che non si vorrebbe conoscere per un attimo un lampo l'impressione di aver colto che la paura non è nell'esperienza di vita vissuta nelle strade dei migranti sulla nave nelle celle in Siria non è quella la paura è qualcosa di più grande di un sistema malvagio che come un'ombra sembra avanzare per non farci più vedere la luce del sole l'immaginazione dei bambini è comune quando si pensa al lupo al cattivo al male come un'ombra gigante sul muro che avanza fino a schiacciare tutte le cose e la paura annienta il seguito della storia fortunatamente il lupo non c'è quindi basta aprire gli occhi per non vedere più l'ombra Quirico l'ombra la vista a occhi aperti rendendosi conto quanto male può fare non solamente a lui ma al mondo intero l'ha vista in quelli che ricevono i soldi dai migranti negli scafisti che se ne fregano negli europei che curano il loro piccolo mondo nei siriani che l'hanno tenuto prigioniero l'ha sentita nelle preghiere nelle parole delle persone un'ombra che secca inaridisce asciuga la speranza Quirico mi ha insegnato ad avvicinarmi alla mia piccola paura di leggere di sapere di capire l'ansia è preferibile calmarla spegnendo le luci invece con Quirico ho iniziato a riaccenderle e a leggere e a cercare di capire Buonasera a tutti parlo io un attimo passo la parola perché l'autrice del libro è lei vorrei che ci fosse una sorta di traslazione io sono semplicemente l'oggetto del libro e il l'alter ego della conversazione il libro è una lunga lunghissima conversazione allora ho ascoltato la splendida lettura dei miei pezzi mi trovo un po' a disagio nel senso che c'è un problema come dire di estragnamento ma che cos'è questo uno non si riconosce in quello che ha scritto questo forse è molto buono credo che sia un risultato eccellente in fondo io mi separo dalle cose che scrivo quasi immediatamente cioè non è che le seguo vado a rivedere cioè nel momento in cui diventano parole e qui stiamo parlando di parole in questo senso con Locascio avremo un lungo discorso da fare che tutte e due in modo diverso usiamo le parole viviamo con le parole ci scontriamo con le parole sopravviviamo con le parole io un po' perché le scrivo lui perché le trasforma in magia magari parole di altri ma che attraverso la sua interpretazione diventano un'altra cosa me ne sono accorta me ne sono accorto ascoltandomi e non mi riconoscevo perché c'era qualche cosa in più che nella scrittura non è un modo carino di dire che ha letto male no che ha letto magnificamente perché se la lettura non diventa un allora chiunque sarebbe in grado di non scherzavo basta vedere la differenza tra un leggere ad altra voce senza averne la capacità di entrare dentro e di trasformarlo in suono ma uso la parola magia magia questa è magia come la magia dei grandi scrittori una capacità evocativa che va al di là addirittura di quello che c'è scritto e del modo in cui è scritto allora beh la scelta anche dei grandi che io non ho avuto alcuna parte quindi l'ho scoperto questa sera mi sembra straordinaria perché è la testimonianza di quello che è un po' il mio diciamo percorso che è un percorso di totale assoluto radicale incontrovertibile incolmabile fallimento personale tutto quello che volete ma anche anche rispetto a quelli che erano i programmi i progetti che in quelle o quelle analisi che in quelle parole avete ascoltato cioè di di trovare il modo come posso dire rovente di raccontare le cose fare sì che chi li leggeva restasse scottato ustionato no c'è quel punto c'è la temperatura d'alto forno beh tutto questo non si è verificato non si è verificato in fondo il problema che mi sono posto a un certo punto cioè di essere semplicemente una persona che aveva avuto una certa esperienza e che rispetto a quell'esperienza veniva continuamente non mi dire continuamente veniva a un certo punto utilizzato ascoltato sentito eccetera eccetera è rimasto quello cioè io nel mondo dei giornali sono semplicemente uno che che poi il mio mondo è il campo da trenta e passa anni di uno che ha avuto la fortuna di essere sequestrato in Siria in un certo posto e al contrario di altri che hanno avuto che ci sono rimasti e tornato indietro e sulla base di quell'esperienza viene boh se ci interessa tutto il resto non ci interessa c'è stato un certo periodo per fortuna adesso i sequestri sono un po' diminuiti perché la gente in certi posti non ci va più c'è stato un periodo che c'è continuamente dei sequestri e io passavo il tempo a rispondere al telefono o a scrivere pezzi sul fatto di quello che uno sente quando viene sequestrato e quando torna indietro questa dà un po' la trappola della mia da cui io non sono più uscito al contrario di quanto forse si era scritto in quelle parole scarsamente profetiche ma tutto questo va bene il fallimento che mi brucia di più è di non essere riuscito a trasformare in commozione la narrazione cioè queste sono parole che non hanno alcun significato sono rimaste parole non hanno scottato nessuno ma neanche intiepidito e in questa esperienza è il mio fallimento no no ma questa questo guardi purtroppo quando lo dico c'è c'è l'impressione che molta gente l'impressione che io lo dico per una forma di retorica un po' narcisista no guardalo qua un altro che si racconta dice come quando io dico che il mio viaggio perfetto è il viaggio senza ritorno e tu ti dirai guardalo qua eh sì poi sei tornato perché non ritorni perché se non ritorno volontariamente è un suicidio io non cerco il suicidio cerco il viaggio perfetto che è un'altra cosa eh quando sparisci e diventi materia come la materia in cui sei entrato allora lo stesso discorso vale per il fallimento devo mettere un cartello se faccio ancora qualche cosa per favore non ditemi che invece ci sono riuscito non è vero non è vero ma non perché io abbia fatto carriera al contrario nei giornali questo chi se ne frega ma perché non sono riuscito in alcun modo a trasmettere la consapevolezza della sofferenza di altri uomini in altri luoghi del mondo a quei quattro gatti che leggerono i miei pezzi o i miei articoli lì ho fallito allora la conversazione con 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 Tiziana in un certo senso mi è servita come recapitolazione nel senso che probabilmente io non ci avrei pensato in modo così così oggettivo perché non mi considero una persona a cui c'è un gran bisogno di riflettere o di pensare e invece parlando con lei e anche di argomenti che non erano quelli io in fondo sono semplicemente un cronista che va in giro solo che va in giro in posti diciamo proprio periferici di quelli di quelli che normalmente frequentiamo che si trovano sui giornali ho cominciato a ragionare su altre cose allora forse mi incuriosirebbe sapere perché al di là della magnifica pagina di brosa che che ho letto Tiziana Bonomi è arrivata a me cioè ha deciso che una conversazione con me non esclusivamente sul giornalismo poteva avere un senso ho il cuore che batte e perché mai allora ma io penso che la lettura che hai fatto tu Luigi esattamente esprime quello che io ho provato quando ho iniziato a leggere Quirico ma leggere i libri di Quirico perché è iniziato effettivamente così in una presentazione del suo libro Esodo io non lo conoscevo come scrittore lo conoscevo come giornalista e mi è stato dato il libro e nonostante lui dica che nessuno si commuove io invece mi sono commossa e molto e adesso che ti ascoltavo perché tu riesci a creare magia è proprio quella magia che a me ha convinto di Quirico le sue parole che se recitate forse riescono a imprimere di più perché penso che lui abbia una capacità di narrazione e di descrizione e di sentimento che è abbastanza unica e la commozione per me mi sono resa conto che non è la commozione dei bambini che ascoltano qualcosa e poi allora si mettono a piangere è una commozione che viene fuori da una rabbia cioè la mia commozione nasce dal fatto che leggendo io ho iniziato appunto con Esodo poi sono andata avanti ho letto Aleppo poi sono tornata indietro ho letto gli ultimi è una commozione che arriva dal senso di impotenza perché un adulto si deve commuovere leggendo una narrazione che fa comprendere che cosa sta succedendo agli uomini quindi va oltre ai fatti l'inizio è il fatto ma poi va oltre nei pezzi che tu hai detto l'umanità l'umano ma interessa l'uomo e questo interesse dell'uomo che a me ha coinvolto l'interesse per l'uomo per ciò che prova l'uomo in situazioni di grande difficoltà in situazioni che noi generalmente non riusciamo a immaginare e all'inizio io ho faticato a capire quelle situazioni perché sentire parlare di guerra se uno la guerra non l'ha vissuta io sentivo mia nonna che parlava di guerra anche mia mamma ma era un racconto fiabesco quasi poi i partigiani poi davamo li facevamo venire mia madre andava a dare da mangiare al cimitero perché i partigiani li nascondevano nelle tombe c'era tutta una razione poi siamo stati presi dai nazisti rischiavamo di essere ammazzati poi mio nonno invece era fascista mi l'hanno salvato ma era per me che avevo 5, 6, 8 anni la fiaba cioè mica capivo veramente che mia nonna e mia mamma avessero veramente rischiato la vita e oggi faccio ancora fatica a capire che veramente ci sono uomini che muoiono perché sta succedendo qualcosa che non riescono a fermare allora la commozione e tu me ne hai dato proprio un esempio concreto è la capacità delle parole così come tu riesci a dare il giusto risalto la giusta sottolineatura a far capire che c'è una forte impotenza e quindi come fai a vincere l'impotenza la rabbia cosa fai? scateni la rabbia? ma non tanto scateni quel sentimento che ti prende la gola e che ti fa venire le lacrime agli occhi perché 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 sembra inconcepibile che ci siano altre persone che hanno una tale difficoltà quindi io ho iniziato così e poi è vero il fatto che occupandomi di fotografia moltissimi moltissimi tratti del del modo di scrivere di di Quirico a me ricordano proprio delle fotografie cioè come se vedessi un'immagine stampata e da allora ho iniziato da quando avevo iniziato a leggere Esodo c'è stata la possibilità di mettere insieme un fotoreporter che aveva fatto un'esperienza analoga ma anziché anziché con i migranti l'aveva fatta con Medici Senza Frontiere e allora è da lì che è partita la mia la mia domanda per chiedermi ma possiamo posso mettere insieme queste due figure e parlare di quanto è avvenuto sulla migrazione e quindi è stato il primo argomento e poi siamo andati avanti e poi conoscendo Quirico quello che mi è piaciuto anche nella scelta che tu hai fatto dei racconti anche dell'Isohard e che mi sono resa conto che in ogni caso ci sono dei temi che poi si intrecciano tra di loro una parte che io ho trovato molto difficile da mettere insieme è stato quello sulla storia perché a te affascina così tanto la storia che cosa trovi nella storia che poi tu fai continuamente riferimento anche nelle tue narrazioni nelle tue esperienze perché perché sei così attratto dalla storia dunque faccio una piccola premessa io detesto le interviste veramente le detesto ma anche ma anche farle perché trovo che sia un meccanismo in cui due persone si mettono più o meno d'accordo allora tu vieni da me mi chiedi questo e quello però se se mi chiedi delle cose che a me non danno fastidio non ti rispondo insomma c'è un mercanteggiamento in cui ognuno dei due tiene un suo ruolo per cui quando io proprio riesco a conversare con le persone nel senso che mi siedo in un certo posto senza che uno faccia domande che l'altro deve rispondere alle domande si parte magari alla larga come si fa nei caffè quando togli dalla gente che magari non hai mai conosciuto e chissà perché poi soprattutto nei luoghi dove vado io c'è una socialità del parlare che è molto è molto diversa dalla nostra anche se io mi presento dicendo sono il giornalista tizio ti posso interessare sul fatto che tu stai scappando come una lepre da qualcuno ti vuoi ammazzare ma chi ti risponde mi siedo poi se si viene l'occasione cominciamo a parlare di lui e parlare di me ecco questo è sostanzialmente il mio allora quello che mi ha convinto non dirle subito no guarda lascia perdere cioè fai una raccolta degli articoli metti insieme quel che ti pare non voglio non voglio saperlo è un certo modo che io chiamo un po' socratico della buon uomo di far domande cioè il metodo di Socrate Socrate era un filosofo senza esserlo cioè se voi leggete i dialoghi di 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 Platone e vedete che Socrate si mette a chiacchierare nella boule nelle terme seduti sotto una pianta e parte sempre con e fa delle domande ma sono delle domande molto indirette apparentemente banali ma secondo te Critone la la giustizia esiste e che è una domanda che vuol dire cioè e l'altro magari comincia a dire ma sì ma la giustizia allora l'altro gli chiede ma scusa ma il tuo concetto di giustizia che cos'è la giustizia per te e allora l'altro deve rispondere allora si va avanti e a poco a poco il meccanismo diventa così coinvolgente e così indiretto che alla fine ne nasce una un atto filosofico per tendo per Socrate evidentemente per me e Tiziana Bonomo allo stesso modo funziona il suo sistema cioè lei sa fare delle domande che mi inducono a riflettere su delle cose che io stesso ho sempre tenuto da parte perché non ho voluto entrarci dentro in questo senso l'ho seguita fino alla aggiungo che questo metodo mi è talmente piaciuto che ho deciso di adottarlo anche per fare un libro sull'Afghanistan invece di mettermi lì a scrivere il mio organista il suo organista il nostro organico il vostro organico eccetera eccetera ho cercato un organo che conosco e ci siamo messi a conversare all'abbonomo cioè magari io facevo delle domande lui mi faceva delle domande e alla fine è venuto fuori un enorme ritratto da due punti di vista diversi di una storia che io non avrei saputo da solo probabilmente rendere allo stesso modo allora per questo ho risposto adesso poi tu mi vai questa domanda sulla storia beh potrei risponderti che forse se io facevo quello che sognavo di fare molti anni fa cioè di fare il professore di storia boh forse sarebbe stato meglio magari un eccellente professore di storia ma adesso un mediocre giornalista e sarebbe ma perché la storia lo sfondo cioè ovunque tu vai ma dicono bisogna andare a a Damasco ad Aleppo dove c'erano gli maia di Abassi ma basta ogni angolo del posto in cui tu giri c'è la storia no? c'è la lapide di quello che è stato ammazzato c'è la statua di quello che ha fatto una cosa o lì c'è una statua che hanno abbattuto perché non è più allora se io so le cose cioè perché ho letto la storia di quel luogo beh e tutto mi diventa familiare ci sono degli echi che riesco a raccogliere no? io ho una grande invidia per i luoghi in cui la gente sa cosa è successo lì temo che questo non sia uno di questi intendo l'Italia uno di questi luoghi cioè io racconto sempre una volta ho fatto un corrispondente in Francia per sei anni una volta sono andato a Darle poi devo fare un pezzo non so che cosa a un certo punto vedo in una delle piazze centrali una statua di un coccodrillo che roba strana nel Rodano forse una volta nel Prio Cenico c'erano e fermo il primo tizio che mi passa davanti ma non è che sono andato a cercare uno che poteva essere un professore universitario piuttosto uno acculturato il primo tizio che mi è passato davanti mi è detto scusi ma mi sa dire perché a darci questa statua del coccodrillo e quello mi ha fatto un'aspirazione straordinaria che la settima legione romana che era a distanza nella provincia della Gallia non so se era Narbonese non so come si chiamava che si chiamava Settimania perché c'era la legione settima Settimania era stata per molto tempo prima durante l'impero prima di venire di essere trasferita nella Francia meridionale in Egitto e l'animale totemico della settima legione era il coccodrillo il nilo i coccodrilli eccetera è rimasta la memoria di questo animale totemico tanto è vero che c'è una statua al coccodrillo ecco io adorerei trovare magari in una delle mille città italiane che sono pieni di mille ricordi storici straordinari un tizio che lo fermo per la strada e mi dice ma perché c'è quel palazzo ah sì quello è il palazzo dove il duca ammazzò la duchessa nel trecento e poi successe questo e quello cosa che qualche volta avviene ecco quella è la storia è quella cosa lì cioè io quando vado in un posto non vado a leggere i reportage dei tremila persone che sono andate in quel posto lì prima di me perché mi deformano la visione della contemporaneità cioè io comincierei a vedere quel luogo con gli occhi di quelli che ci sono stati un anno prima due anni che magari sono molto più svegli furbi intelligenti ma comunque è un'altra visione io voglio arrivare in un quadro totalmente innocente però voglio sapere ad all'epoca cos'è accaduto perché c'è una cittadella turca perché 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 ci sono certi luoghi che hanno una memoria ancora precedente cosa è capitato tra durante che so il periodo del mandato francese che ha radicalmente modificato anche socialmente il luogo ad esempio gli alawiti che sono oggi al potere e sono il gruppo etnico di Bashar Assad e anche di suo padre ovviamente della famiglia degli Assad e che controllano la Siria in tutti i suoi gangli anche in modo brutale violento e sanguinario erano una piccola gruppo etnico di montanari raietti da tutti i luoghi di potere addirittura fino a un certo periodo credo che se un alawite incontrava un sunnita sul marciapiede doveva scendere dal marciapiede e facevano i lavori più umili servitori mezzadri collaboratrici domestiche eccetera eccetera e poi i francesi che avevano bisogno di gente che fosse arrabbiata con la maggioranza della popolazione per farsela amica e usarla come strumento di controllo di quel luogo li hanno arruolati nella polizia nell'esercito nella gendarmeria funzionari eccetera e sono diventati immensamente potenti gli alawiti grazie a questa mediazione coloniale oggi sono i padroni della Siria lo sono da 40 anni e temo che lo saranno anche nei prossimi 40 visto quello che è capitato allora questo mi serve la storia quindi probabilmente grazie alla conoscenza della storia quando vai nei luoghi ti è anche molto più facile comprendere perché io la difficoltà che ho quando si affrontano o si leggono degli articoli di fatti nuovi è proprio comprendere che cosa accade lì anche adesso del recente Afghanistan per me non è stato semplice immediato capire quindi probabilmente la storia sapendo che cosa c'è stato prima quindi non solamente la cronaca contemporanea aiuta molto a districarsi nel in quello che avviene diciamo una cosa cioè io faccio o meno tenterei di fare poi spallendo una specie di storia in contemporanea in presa diretta la storia come si evolve come si costruisce come in questo momento qui ed ora gli storici fanno un lavoro totalmente diverso cioè vanno negli archivi ricostruiscono le figure del passato eccetera eccetera io ho scritto qualche piccolo libro non di storia per carità di Dio ma così episodi più antichi che io per la giornata grafica non ho partecipato l'una cosa fa da correttivo all'altra cioè se io facessi solo lo storico finisce che a foglia di avere a che fare con dei trapassati divento un po' trapassato anch'io cioè perdo il contatto con la realtà allora il vivere la storia cercando di narrarla nei limiti di una narrazione contemporanea quindi senza avere la profondità di visione che ha invece uno storico anche perché viene a posteriori beh questo mi rende più più vivi non ho rischio di finire appunto anch'io come mummia insomma che è un po' un grosso rischio di molti storici se vuoi sì poi mi ha molto incuriosito questa tua scrittura che nasce poi dalla dalla grande lettura che fai costantemente tu mi hai detto che hai soppalchi pieni di libri che un giorno o l'altro rischiano di crollare mio padre era ingegnere e temeva per la sorte delle solette diceva guarda che i libri uno per uno perché hanno niente se ne metti tanti uno quanto l'altro sono un peso gigantesco per cui prima o poi questa affare sprofonderà però adesso non è accaduta speriamo che non accada e nella lettura mi aveva anche molto colpito quando tu mi hai detto parlando dei ragazzi degli studenti poi tu spesso fai anche delle lezioni magistrali nelle scuole insomma che io ho anche ripreso la lettura è impegnativa la lettura è impegnativa e questo io l'ho trovato un punto su cui riflettere perché è vero la lettura è impegnativa però nel momento in cui tu ti abitui a leggere diventa necessaria cioè diventa come dire i libri sono qualcosa di faticoso oggi io appartengo a una generazione ancora del libro poi c'è venuta la generazione della televisione poi è venuta la generazione dei social non so come li chiamano io appartengo alla generazione del libro e la lettura di un libro è una cosa impegnativa ma anche del libro anche del romanzo è una cosa impegnativa non te la cavi in tre minuti in compenso boh racconto sempre che quando vado in giro piuttosto lascio a casa tre camicie di ricambio e mi porto sempre dei libri che non è un vezzo emingueiano no è un è un'assicurazione è una garanzia che hanno salvato i libri ma che hanno salvato più di una volta ma in realtà io faccio un mestiere di pazienza cioè vai in posti dove non ci sono gli orari dove non c'è l'aereo non parte dove il confine non è superabile sino a quando non succede qualcosa il tizio che ti deve venire a prendere e portarti dai ribelli lo hanno lo hanno sbriciolato per cui bisogna aspettare un'altra settimana allora io rapporto è con il tempo il tempo che non passa mai ma è il tempo anche del sequestrato cioè l'errore più gigantesco che hanno fatto i miei simpatici ospiti è di avermi lasciato i libri forse perché pensavo che fosse una roba talmente inutile e relevante e quello mi ha salvato perché io quello continuo a rileggere allora è l'unico compagno che viaggio io viaggio generalmente sempre da solo anzi direi quasi sempre da solo cioè il pullman dei giornalisti l'albergo dei giornalisti il gruppo dei giornalisti non perché detesto non perché sia sociopatico ma perché questo è un mestiere unanistico non puoi farlo a massa cioè io ho bisogno di arrivare in un posto in cui non ci sia della gente come me anche i fotografi lo dico con un grande rispetto che comincino a girare attorno la gente comincia a recitare comincia a cercare di raccontare far presentare la parte migliore di sé nascondere i guai eccetera eccetera allora questo lo vuoi fare soltanto se vai da solo se non ti presenti come gioco non nel senso che ti travesti qualche volta ma è tanto anche necessario ma questa è una cosa che mi piace poco perché il rapporto con le persone soprattutto in situazioni di tragedia di dramma deve essere un rapporto onesto non posso mentire e dire ah io sono no sono uno che passa di qua sono uno che passa di qua che vuole guardarsi attorno e raccontarvi deve essere un rapporto onesto allora il libro non ti molla mai sta sempre lì eh e io ho scoperto in questo modo una cosa che vi suggerisco che forse lo sapete già voi venite al circolo dei lettori quindi siete tutti lettori siamo tra noi ecco insomma non in partibus infidelium la cosa più straordinaria oltre a quella di leggere per la prima volta è rileggere eh rileggere è una cosa meravigliosa cioè a un certo punto della vita secondo me bisogna quasi quasi sospendere il nuovo e bisogna cominciare a rileggere quello che uno ha letto venti trenta quarant'anni prima eh e fanno delle scoperte straordinarie si scopre che il libro non è lo stesso perché tu non sei più lo stesso cioè sono degli autori che io quando avevo quattordici quindici anni romanzieri che è poi la stagione dei romanzi eh quella dell'adolescenza che poi uno dice si accorge di aver letto alcuni nomi e tutto quello che viene dopo gli sembra un po' se non vai che qualcuno si offendesse qui dove sono ospiti permanenti tutto quello che viene dopo vale meno però tu rileggi ci sono degli autori che io quando avevo quattordici quindici anni ho trovato straordinari quelli che uno si innamora come delle donne cioè totalmente sembra che tutte le tutte le risposte ad esempio no dico quelli che non mi piacevano ce n'erano ce n'erano che invece io detestavo che trovavo inconsistenti uno di questi è Hemingway quando ero quattordici quindici anni Hemingway non mi diceva niente questo vitalismo questa roba la caccia il chili mangiavo la breve vita felice di Francis Macombie cioè la fiesta la parigi di quando eravamo tanto povere tanto felici ma mi sembra una scrittura anche come dire grezza povera e poi l'ho riletto non so un libro come di qua dal fiume tra gli alberi no che poi è un libro che è stato pubblicato quando è già morto quindi probabilmente non ci ha neanche fatto ma quello è un capolavoro straordinario e ho scoperto che quella rozzezza non era il frutto di una incapacità ma era il frutto di un lavoro terribile lentissimo meticoloso di abrasione di sfondatura la grande letteratura non è e forse qui sono un po' in contrasto il modo con cui scrivo non è accumulazione ma è eliminazione sfondare tagliare tagliare fino ad arrivare al nucleo della purezza originaria del racconto di quello che è ma questo vale per la narrativa che è finzione e vale anche per la per la scrittura giornalistica allora Hemingway non mi piaceva l'ho riletto dopo e ho trovato che sei un un autore straordinario straordinario allora rileggere io infatti mi porto dietro sempre dei libri che ho già letto e in cui mi confronto in cui mi specchio trovando come io sono cambiato perché il libro è cambiato con me è sempre lo stesso non è che ne leggo una traduzione o una versione diversa il libro apparentemente è rimasto uguale ma io sono cambiato e quindi anche lui è cambiato con me nel modo in cui mi si specchio dentro ma il discorso dell'incipit che io ti chiedo all'inizio è proprio di parola è escludo sì ma il discorso dell'incipit che è proprio all'inizio del primo capitolo tra l'altro quando io ho iniziato ed è l'unica data che ho segnato era luglio del 2017 ad Asti poi è passato del tempo anche per cercare di leggere anche tutti gli articoli che hai scritto in Francia i libri seguire le interviste o comunque le tue dichiarazioni le lezioni magistrali se riportare braccato c'è anche un altro termine ma non lo usiamo stalkerato continuamente ecco mi ha incuriosito questo fatto perché l'ho riletto adesso e non mi ricordavo più io ti chiedo ma che cosa accade quando inizi a scrivere ma per me è fondamentale l'incipit parliamo del 2017 luglio e poi tu ti ricordi qualcosa in merito a questo ma per esempio se fossi andato in Afghanistan avrei cominciato dicendo perché abbiamo perso questa guerra perché l'abbiamo persa definitivamente irrimediabilmente sonoramente ecco anche questo aspetto è qualcosa che mi ha molto incuriosito nell'approccio che tu hai agli eventi di cui tu sei testimone anche questa lucidità nel nel comprendere che quella situazione avrà una certa storia un certo proseguio che non è così evidente ecco e questo fatto rileggendolo mi sono detto incredibile a distanza di diversi anni effettivamente è così la situazione è proprio così ma sai credo che qualsiasi scrittore ti direbbe la stessa cosa io non sono scrittore per carità teniamoci l'abuso di titolo è ancora nel codice penale credo hanno tolto tante cose ma quello no allora per me il problema è trovare le prime due righe poi dopo scorre tutto molto molto rapidamente l'incipit il comincio non so chiamatelo come vi pare che consiste siccome stiamo parlando di articoli nel trovare il cuore di quello che tu devi raccontare in ogni vicenda o in ogni personaggio in ogni c'è un punto che ricapitola tutto il compito dell'inviato del giornalista è trovare quel punto e attorno a questo costruire la narrazione allora se io trovo le prime due righe sono a posto non ho problemi e qui però torniamo al discorso che abbiamo fatto prima cioè io in Organsi ci sono stato un sacco di volte ma prima del 2017 perché poi da un certo periodo non mi ci hanno più mandato perché evidentemente c'erano delle persone che ne sapevano più di me e questo è nella regola del gioco ma per carità di Dio io non ho nessun invidia non ho nessun non ho nessun rimorso per le cose che non ho raccontato ce ne sono innumerevoli in cui avrei voluto andare e non mi hanno mandato è bene così allora se fossi andato e nel 2017 il pezzo l'avrei cominciato così questa guerra l'abbiamo perduta irrimediabilmente poi è successo diciamo quattro anni dopo ma come dire se uno è stato in Afghanistan e ha visto cosa è stato l'Afghanistan del ventennio americano ma già nel 2002 2003 gli americani sono andati nel 2001 hanno cominciato diciamo a costruire costruire la loro grande finta narrazione dell'Afghanistan democratico eccetera eccetera diciamo dal 2004 prime elezioni presidenziali se ne accorgeva subito che quella roba lì era cartone che non poteva reggere ed è incredibile che abbia letto vent'anni solo perché gli americani hanno rovesciato tonnellate di denaro e di bombe su quel paese altrimenti dopo un mese finiva tutto allora se mi avessero mandato ma io sono a mille posti in cui il comincio già ce l'avrei so che non mi ci manderanno mai quindi me lo terrò per me e boh finiva lì siccome non scrivo romanzi perché non sono capace io sono come dire legato a filo doppio incatenato ad una realtà da narrare non riesco a inventarmi una realtà perché trovo che sia per certi aspetti un po' comico con tutto quello che succede perché devo nella realtà vera storica che io posso verificare andando semplicemente in un posto anche stando qui in questo paese perché mi devo inventare una finta con tutti i personaggi tremendi meravigliosi esaltanti umilianti che ci sono nella recita quotidiana della vita ma perché mi devo inventarmene uno finto ma che ci sto a fare cioè basta che vada a guardare negli occhi quelli che sono veri e cerchi nei limiti di cui di cui sono capace cercare di raccontarli perché devo inventarmi il finto giadista il finto migrante il finto scafista cioè escono dei romanzi sui migranti ma siete matti? ma come si fa a scrivere un romanzo sui migranti? ma esci in strada altro che i romanzi c'è la realtà è un po' più vandelliano se vuole questa roba però ma come faccio a inventarmi un personaggio che vive una tragedia quando ce l'ho davanti? beh posso inventarmi un personaggio storico perché mica posso tirarlo fuori e farlo rivivere come il mammute che sta nel permafrost siberiano ma ma quello vero io sto terrorificando questa roba di romanzi sulla Siria ma dai ma i dieci anni che è lì che recita se stesso tragicamente e i morti sono morti e i vivi sono vivi e i fuggiaschi sono fuggiaschi veri e non pagati a gettone cioè ormai noi preferiamo il film alla realtà questo è anche il problema della narrazione della guerra io non riesco a convincere la gente di che cosa vuol dire vivere in un'esperienza bellica che dura 5, 6, 10 anni 15 anni ogni giorno perché la gente va al cinema vede la guerra in Siria ha visto 4, 5 o il Vietnam o che so anche l'Afghanistan c'è un sacco di film sull'Afghanistan ed è la guerra cinematografica sembra tutto così come posso dire lucido no? tutto messo a postino la casa che salta il tizio che muore il giardista cattivo l'altro l'altro buono il soldato americano che ha i problemi a casa del mutuo e della moglie che muore lì è tutto messo a posto la guerra è vera 10 milioni di volte peggio di è sporca è coperta di polvere è puzza e ti toglie il respiro una bomba ti assorda per un'ora e mezza non senti più niente non c'è nessun effetto speciale e lo stesso discorso vale per quelli che fanno romanzi sulle tragedie contemporanee ma vietateglielo ho trovato una mostra su Aleppo e volevo e volevo l'idea iniziale era adesso parlo troppo interrompo subito era di portare il visitatore all'interno dell'esperienza degli abitanti di Aleppo dal 2011 a oggi allora l'idea era per esempio di fare degli effetti sonori pari all'esplosione di un proiettile da 175 e questo hanno vissuto oppure di un missile tirato da un MiG-21 allora se uno sta anche a un chilometro per un'ora non sente più niente è totalmente intontito non sente nessun rumore che gli parla non sente più nulla la percezione è anche visiva è una cosa tremenda poi mi hanno detto ah no perché se facciamo questa roba qua arrivano i pompieri arrivano la protezione civile ci avrestano tutti per cui bisogna fare e allora che cos'è? vorrei puoi chiedere una cosa Luigi faccio ancora un'ultima domanda abbiamo pochissimi minuti ma prima volevo concludere un attimo per quanto riguarda perché io ho messo un capitolo che non avevo previsto che era quello sulla prigionia ma io l'ho messo per parlare della vita infatti ogni capitolo ha un doppio nome una prigionia vita e questo aspetto da un lato mi ricordo che mi hai detto sì in effetti forse se tu avessi iniziato chiedendomi della prigionia non avrei neanche mai iniziato a fare a fare queste nostre conversazioni perché? per la ragione che ho spiegato prima perché non voglio essere come dire vincolato a quell'esperienza lì che per me è una delle io ho stato sequestrato quattro volte in vita mia non è che tutte le volte uno ha messo i cartelli fuori le altre volte è stato forse non c'era non c'era tutto sto bailamme non c'era non i social non c'era questa roba ma ne pregava niente nessuno sono ritornato ho semplicemente raccontato che in un posto a Grosny mi avevano preso i ribelli i giaggisti boh mi hanno chiuso la cantina pensavo a una spia russa boh vabbè finito lì un articolo il giorno dopo la gente si era già dimenticato questa volta è diventata una roba che mi ha impacchettato per sempre ecco io l'ho voluta inserire perché nei tuoi libri ho trovato e poi anche negli articoli anche negli ultimi quando è stata rapita Silvia Romano o il libro che tu hai scritto di Giovanni Loporto ogni esperienza di sequestro è mia mi appartiene è mia anche se non volessi perché io so cosa hanno provato quelle persone lo so Silvia Romano è tornato indietro mi sono felicissimo Giovanni Loporto non è tornato indietro lo hanno ammazzato e hanno ammazzato quelli che lo dovevano salvare io conosco la madre e alla costruzione del libro ci sono arrivato perché io lui non l'ho mai conosciuto perché era già prigioniero quando la madre mi ha telefonato ho conosciuto la madre e potevo raccontare alla madre che è venuto a chiedermi ma mi dica c'è possibilità in fondo in me cercavano semplicemente una conferma antropologica della possibilità che i loro cari tornassero indietro è tornato lui può tornare anche mio fratello mio figlio mia moglie mio padre quello cercavano e questa era l'unica funzione che io potevo svolgere io potevo raccontargli ogni minuto di quella regionia anche se uno è stato prigioniero in Afghanistan e io sono stato prigioniero in Siria altri in Libia e in altri posti perché la storia di chi è sequestrato ha dei passaggi comuni passaggi comuni poteva raccontare per questo ogni sequestrato è una persona che io sono con lui ne vivo ogni momento non lo rifiuto questo rifiuto l'essere semplicemente quello se io fossi solo quello io continuerai a essere prigioniero per altri 10.000 anni è vero i sequestri non finiscono mai questo chiedete o conferma ad altri sventurati che hanno avuto la stessa esperienza che magari non hanno scritto libri e non scrivono sui giornali non finisce mai perché il sequestro evolve come i libri ne scopri sempre qualche aspetto che all'inizio non conoscevi va insomma fermiamoci qua allora prima di concludere sì mi piaceva chiederti Luigi come tu che è anche scritto sei sei anche scrittore quindi anche tu hai provato e provi l'esperienza della scrittura cos'è che ti ha coinvolto della narrazione di Quirico e di questo libro cos'è che ti ha posso riprendere questo? ma tante cose poi lui se fosse diventato un professore di storia un docente all'università non era bello se alla festa che so alla fine finiva il suo appunto il suo insegnamento tutti gli allievi l'andavano a trovare e lui avesse detto mi rendo conto che questi 40 anni di insegnamento sono stati un fallimento assoluto ecco questo nel senso poi qua si aprirebbe una cosa che non c'è il tempo perché mi piacerebbe anche a me un metodo che non è quello bonomiano ma un altro ci sono delle cose che e questa è la complessità perché anche se sembra tutto molto lineare molto preciso in realtà ci sono delle difficoltà delle contraddizioni che forse sono le cose che ti fanno che ti bruciano dentro perché se no uno appunto è o nella calma o nell'assoluta disperazione mentre invece c'è un movimento perché se no sarebbe da vedere in che senso una cosa è un fallimento cioè come agisce cosa ti aspettavi tu dalla tua scrittura perché questo cosa ti aspettavi e quindi che cosa secondo te ha provocato e vedi una dismisura tra le due cose e quindi decreti che quello è un fallimento quindi sarebbe interessante capire anche che cosa ti aspettavi a me piace io è successa una cosa strana posso dire questo perché veramente non c'è tempo e sarebbe troppo lungo però la felicità di certi incontri cioè in realtà io stavo scrivendo a proposito di scrittura un testo il 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 tamerlano di marlow mi avevano chiesto di fare la regia del tamerlano di marlow a palermo e io l'ho letto e non sapevo da dove cominciare tutta una serie non so per chi lo conosce chi non lo conosce insomma una serie di battaglie di cose eccetera eccetera mi sembrava che non mi sembrava interessante dal mio punto di vista dove appunto a un certo punto sarebbe stato bello vedere il tamerlano in crisi cioè si dà teatro se c'è un dissidio è un capolavoro di poesia però noi non la possiamo gustare perché comunque in inglese ci sono le traduzioni eccetera eccetera e quindi però in quel momento mi interrogavo ovviamente sulla guerra cioè nel senso che cos'è la guerra che cosa posso dire attraverso lo spettacolo di personale il mio punto di vista non su Marlow perché non sono un anglista ma che cosa voglio fare con questo ma appunto che cosa vuole fare uno con la cosa così e là ho cominciato anch'io non conoscevo i libri di Domenico io ho cominciato a leggere i suoi libri e è stato molto 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 di ispirazione anche di un certo modo appunto più prudente parlare di guerra per uno che non c'è stato rispetto a uno che c'è stato e che se la porta addosso e che e che ce la fa rivivere così poi le distrazioni subito dopo sono l'enigma del perché la letteratura magari non è detto che migliori le persone ma tutta allora non soltanto quella di non non la storia la storia non serve a nulla la letteratura non serve a nulla cioè questo è problematico in generale non credo nella sua nella tua dimensione appunto personale specifica della tua esperienza poco dopo che pensavo piacerebbe conoscerlo prima o poi questa persona che scrive che ha visto queste cose verso cui io ho mostrato una totale distrazione anche un senso di miseria diciamo rispetto e può suscitare anche questo diciamo un senso di inadeguatezza poco dopo mi hai mi hai chiamato tutto e ho detto perché non vi sentite mi è sembrata una cosa molto strana mi è sembrata una cosa molto strana e da allora poi c'è stato il lockdown insomma non ci siamo mai più rivisti ci rivediamo qua adesso ma è l'eco della fascinazione che avevo provato in un momento in cui stavo scrivendo però non arrivo a dire che il fatto che il mio testo era brutto è dovuto alle letture che ho fatto diciamo che comunque hanno suscitato in me una emozione che è entrato in qualche modo anche in alcune parti del testo guarda per me è veramente un grande piacere grazie per aver reso magico le parole che ci sono nel libro e per me tu sei un attore questo ce lo diciamo dopo adesso ti lascio concludere però vorrei fare ringraziamenti ti lascio concludere per me sei un attore grandissimo da quando io ho visto cento passi ti ho seguito passo per passo quindi straordinario e ringrazio ovviamente Domenico Quirico per aver accolto le mie bonomiane conversazioni e fuori ci sono i libri soprattutto ringrazio ovviamente la casa editrice perché non è stato così poi semplice arrivare immediatamente alla pubblicazione ringrazio la casa editrice Jakabuc e qui Martina che la rappresenta molto bene e ringrazio ovviamente il circolo che ha accolto questa proposta quindi lascio a te concludere questo momento sì sì c'è tempo c'è tempo tanto è breve e grazie a tutti voi per essere venuti qua naturalmente sì e allora pensavo che non ci fosse tempo allora è l'ultima l'ultima l'epilogo l'epilogo del libro è stato scritto da Tiziana ovviamente è stato un viaggio di quasi tre anni e l'unica certezza è che non so chi sia Domenico Quirico vive nelle parole con le parole le sue letture continue sono il pane con il quale nutre se stesso frantuma frasi miti eroi visioni dolori gioie compazienza la sua più grande virtù così come taglia l'erba per tenere in ordine il suo spazio segreto non ha limiti se non le sue regole trattiene dei personaggi dei miti della storia dei fatti solo ciò che gli consente di generare rigenerare continuamente se stesso l'inafferrabile Domenico Quirico la sua imperfezione il suo fascino incantato dalla vita e stupito dallo scandalo della morte generoso e rabbioso impetuoso e lucido riesce a cogliere le contraddizioni della vita e a nutrire quel desiderio puro di intrecciarne i fili andando a scoprirne il capo e forse mai la coda il suo modo di parlare e di scrivere è per me più convincente di altri forse per la sua apparente semplicità di districare con ragione cuore con forza e controllo le complessità dell'esistenza umana la sua parola vola sopra le montagne di fatti pensieri in mondi diversi tocca creste alte si deposita per creare un'eco chiara distinta dentro di noi i contenuti della sua scrittura danno sostegno linfa a tutti quelli che come me hanno bisogno di farsi una ragione sul mondo sulla storia e sulle complesse componenti che vita e morte sempre ci mettono di fronte mi ha regalato qualcosa che è per me grande la presa di coscienza di ciò che voglio e di cosa ambire per i miei figli cioè una coscienza sensibile a ciò che avviene nel mondo e all'umanità un viaggio che continuerò attraverso i suoi articoli dichiarazioni parole per conoscere la storia la religione il male per entrare dentro le guerre per attraversare i paesaggi infiniti di poesia rimane un giornalista unico un uomo dai tanti silenzi con cicatrici profonde che difficilmente saranno rimarginate grazie 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 grazie